Cambio di data dunque per la sfida tra Fidelisandre e Sudirol, valida per la semifinale d'andata della Coppa Italia di Serie C. La Lega Pro infatti ha deciso di anticipare di un giorno il match degli Ulivi, che si sarebbe dovuto inizialmente disputare mercoledì 19 gennaio, e invece si giocherà alle 15 del 18 gennaio. Questo anche perché il campionato incombe, almeno sulla carta, perché la Serie C ripartirà domenica 23 gennaio, quando in programma la trasferta Rivivo-Valenzia. Una sfida salvezza che gli uomini di Ginestra devono capitalizzare, anche perché i calabresi, che occupano l'ultimo posto in graduatoria, hanno solo due lunghezze di ritardo rispetto ai federiciani. Non sappiamo se fino ad allora Giovanni Di Noia vestirà ancora la maglia azzurra e sempre più forte infatti l'interessamento del Gubbio nei confronti del centrocampista pugliese. In realtà per lui si tratterebbe di un ritorno in Umbria, dato che Di Noia è giunto ad Andria in prestito dal Perugia. Il feeling con la piazza non è mai scattato e non è escluso che Di Noia possa lasciare la fidelisi in anticipo rispetto agli accordi con la società biancorossa.